Gabriele Pinelli, bombard di giornata quest'oggi al Damiano, ancora una volta decisivo nel primo turno delle fasi nazionali play-off fra Saluzzo e Vilafranca Veronese. Gabriele, un inizio molto emozionante con i fuochi d'artificio, fumogeni, un'atmosfera che a Saluzzo non si vedeva da tanti anni. Che partita è stata e poi qual è stata la gioia di segnare questo gol davanti a un Damiano mai così pieno? La gioia per il gol è tanta, non è ancora di più per il risultato che è arrivato. Giocare oggi è stato bello, non è da tutti i giorni giocare nella semifinale nazionale, il contorno è bellissimo, come ho appena detto, fuochi d'artificio, fumogeni e quant'altro. Siamo contenti appunto di aver vinto questa partita, ma sappiamo ancora che c'è la gara di ritorno e sarà molto dura. Ecco, vi aspettavate una partita così, contro una squadra comunque molto solida, solida come voi, perché poi alla fine non prendere gol, oggi in casa è stato importantissimo. Importantissimo, sì, comunque loro, una squadra forte, fisica, soprattutto nei primi 45 minuti ci hanno messo in difficoltà perché erano molto aggressivi. Ci aspettavamo una partita, una squadra del genere. Adesso niente, prepareremo qui una partita di ritorno in migliori modi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.